Il Trattato di Libero Scambio usa Europa come ustica e le stragi degli anni 70-80. Lo scrive il Movimento 5 Stelle che spiega come la possibilità di prendere visione dei documenti sul TTP, il Trattato Transatlantico su Investimenti e Commercio, in Italia sia soggetto alla normativa che regola il segreto di Stato fino a poco tempo fa, applicata per vicende drammatiche come il disastro aereo di ustica e gli attentati dei cosiddetti anni di piombo. I tre parlamentari del Movimento 5 Stelle che oggi nella sala di lettura del Ministero dello Sviluppo Economico hanno iniziato a consultare i documenti finora riservati. Hanno raccontato di aver avuto accesso alla sala scortati dai carabinieri e senza poter introdurre cellulari o altri apparecchi in grado di riprodurre il testo. Abbiamo iniziato a raccogliere appunti e, fatti gli opportuni riscontri, promettono i grillini, li diffonderemo nelle prossime ore. Una procedura e una segretezza contestata anche dai movimenti dei consumatori che reputano assurdo il fatto che un accordo che potrebbe cambiare le vite di milioni di cittadini venga negoziato nel più assoluto mistero. Negoziato che, tra l'altro, si trova adesso in una fase di stallo al punto che la Commissione europea nel vertice in programma a fine giugno chiederà ai leader dei 28 Paesi dell'Unione la conferma del mandato a negoziare con gli Stati Uniti in materia di trattato di libero scambio. Di fatto i negoziatori di Bruxelles cercheranno l'appoggio del Consiglio e una conferma forte dal grande significato politico ad andare avanti. La Commissione, ha ribadito il suo portavoce, non accetterà mai di sacrificare i principi dell'Unione europea sull'altare dell'accordo commerciale con gli Stati Uniti. Per il neo-ministro dello sviluppo economico, Carlo Calenda, il negoziato potrebbe anche concludersi con un nulla di fatto perché se è vero che gli americani, in particolare il presidente Obama, spingono per chiudere l'accordo entro la fine del suo mandato è anche vero che buona parte dell'opinione pubblica europea si mostra apertamente ostile perché anche se verrebbero aboliti dazi decisamente punitivi per le merci europee e quindi esportare sarebbe più facile e vantaggioso è anche vero che resta altissimo il rischio di venire invasi da prodotti non controllati al contrario dei nostri e dunque di dubbia provenienza.